Adesso speriamo che... Mancano i punti in classifica al Pescara? Non certo gli sponsor. Presentato un nuovo partner, il cui marchio compare sulla manica della maglia. Si tratta della IVC Brand del gruppo Di Donato, azienda pescarese nel settore delle vernici. Sentiamo l'amministratore delegato, Antonio Di Donato. Il vostro impegno è cresciuto, visto che anche l'anno scorso davate il sostegno alla squadra biancazzurra? Sì, corretto. Quest'anno con il Presidente ci siamo incontrati, abbiamo in effetti molto rapidamente trovato un accordo. Noi negli anni ci siamo rivolti maggiormente ai mercati internazionali. Da quest'anno abbiamo viceversa ritenuto di dover investire maggiormente in Italia, soprattutto in Abruzzo, per cui si è trattato anche di una valutazione di opportunità. Da parte sua il Presidente del Delfino, Daniele Sebastiani, ha ringraziato tutta la famiglia di Donato perché non è facile dare una mano in un momento così particolare. Poi, inevitabilmente, il discorso si è spostato su altri argomenti. Sapevamo che eravamo un pochettino indietro e ci voleva più tempo degli altri. Abbiamo finito per ultimi il campionato scorso, l'abbiamo riniziato per ultimi la preparazione per il nuovo. Quest'anno sarà una stagione tribolata un po' per tutti. Cerchiamo di fare meno danni possibile, però per fare questo bisogna avere unità di intenti e molta cazzimba, come dicono a Napoli. Mi dice, Presidente, se c'è qualcosa che la preoccupa in particolare in questo momento? No, l'unica preoccupazione che ho è di rivedere presto in campo quelli che stanno fuori. Per il resto non ho preoccupazioni perché già nella prima partita, quando eravamo quasi al completo, questa squadra ha fatto vedere se poteva giocare tranquillamente. Con l'Empoli abbiamo fatto una buona partita, ne abbiamo steccate due, facendo male, veramente male. Quindi sicuramente qualcosa da migliorare c'è, però preoccupazione è il giusto, diciamo noi. Sulla trattativa della cessione della società, sembra che ci sia un fondo interessato, conferma qualcosa? Addirittura. Però io vorrei chiedere a tutta questa gente che sa più di me della vendita della società, se mi portasse qualcuno... Ma la trattativa c'è comunque... Ma voi sapete che io sono anni che lavoro per cercare di far più forte questa società, magari di trovare dei soci, di trovare qualcuno che è molto più forte di me e che possa portare in alto il Pescara. Al momento non c'è nulla, ogni giorno esce un nominativo nuovo, l'importante è che magari questi nominativi poi passino per me, perché la trattativa non la fate né voi giornalisti, né i tifosi, né la piazza, la trattativa dovrei fare io. Non mi risultano queste trattative, per cui... Una cosa su cui tengo a precisare è che adesso come la vendita della società, se abbiamo i giornali, ci sono altri dieci allenatori al Pescara. Oddo non si muove da Pescara, non si tocca, per cui è inutile che parliamo, anzi vi evito pur di scrivere, quindi evitate di scrivere. Anche quattro, cinque, evitate di scrivere. Grazie a tutti.